Buongiorno Per i lavori alla linea 3 della tramvia Domani sarà chiuso al transito Il sottopasso ferroviario Di via dello statuto Chiudiamo con il meteo e l'amma prevede Per oggi in Toscana cielo inizialmente sereno O poco nuvoloso Aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio Con possibili rovesci in serata Temperature massime in calo Con punte di 36-37 gradi Muoversi in Toscana È un servizio realizzato in collaborazione Con Regione Toscana Città metropolitana di Fili Grazie